bella a tutti ragazzi eccomi qua sono tornato due settimane di assenza scusate ma non avevo la camera finalmente sono uscito a prendermi la famosa logitech c 920 hd pro l'ho presa al media perché su amazon era una truffa ho aspettato un mese per niente mi scuso con voi ragazzi veramente di cuore mi scuso tanto tanto con i miei scritti le mie iscritte la qualità è ottima io la vedo benissimo fantastica sta cam un bacione vi ringrazio per questa attesa scusatemi tanto veramente un bacione grande e che altro dirvi scusatemi che cosa posso dirvi pensavo che la cam quella era l'offerta invece era un tuffatore grazie a dio amazon è spettacolare mi risarcisce 5 giorni lavorativi mi ricarica la mia tessera che ho pagato con la cam che non è mai arrivata e passiamo con i saluti tutti i miei scritti e le mie iscritte tanti baci e poi saluto the brothers game 82 mio fratellone i miei tesorini e andate sul canale di the brothers game 82 mi raccomando iscrivetevi perché è un grande saluto mia solina flo e mia del cemento iniziamo con i mega acquisti ragazzi che sono indietro di tanti tanti giorni e ho fatto faccio un video con tutti gli acquisti che ho fatto allora ho preso l'amiibo di adesso questa cam finalmente posso mettere anche a fuoco vediamo se lo fa che bello che figata guardate come avviso guardate abbiamo kirby l'ho preso perché c'è il 4x2 al gestop 4x2 al gestop ecco qua kirby con 4x2 lo rimettiamo qua sopra poi abbiamo preso pit abbiamo preso pit pit cominciano a vedere io ho capito scusate sono ancora un po' imbranato questo acqua pit pit perché c'ho pit scudo ho preso pit chiaro poi ho preso il nuovo di splatoon anche se non ho più una wii ma lo prepariamo per l'nx perché questo è un gioco che prenderò sicuramente e riprenderò sicuramente questo gioco da avere avere sicuro sicuro ho qua splatoon un nuovo nuovo spatulino cercate aver pazienza che sono un po' ancora imprenato con la massa fuoco poi abbiamo il calamarino eccolo qua il calamaro il calamaro l'abbiamo qui calamaro arancione perché lui è verde non l'abbiamo trovato a miglia da me a quanto sei furbo a camerina è arancione che non seguiamo dentro il panno scuota a fuoco ma guarda che strumenti perché c'erano verde e poi l'ultimo non potevano prenderlo adesso giocando il gioco su 3ds eccolo qua che è che è che è e metroid mettiamo qua quando prenderlo altri poi cominciamo con i giochi pes 2017 uscito ecco qua e session 4 bioshock fatto invece di 1 e per magia 2 per session 4 sempre un pochino qua ragazzi e poi poi questa cosa l'ho fatto già vedere ragazzi che sono messo un po' indietro vado warcraft per pc vado qui per pc batman la serie su cd qui poi eme 2k 17 non ho ancora giocato ragazzi veramente tanti poi poi continuiamo con PlayStation 4 poi Resident Evil 4 sto prendendo tutti coppia fisica ragazzi eh ecco qua devo prendere 5 coppia fisica poi ce l'ho tutti FIFA 17 come se potevano prendere devo ancora metterlo dentro e scattare i codici poi finalmente ho recuperato Tirt ha una stupidata veramente stupidata 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 ho ancora togliere il bollino malefico volevo giocare mi ha detto più bene poi 4 finito ragazzi one FIFA 17 forza horizon 3 un giocone della madonna ragazzi con forza horizon 3 mi ha dato anche questa qua la macchinina la collezione eccola qua poi ho preso blue dragon scusate retrocompatibile pam e le mettiamo a posto la macchinina poi FIFA 17 anche lui da riscattare i codici c'è un bordello qua di termispare se tutti i giochi per pc non lo metterà a posto poi il 4x2 sul pc ho preso questo che mi piaceva è tipo un XCOM però degli anni 60 anni 70 vedete vedete non si mette a fuoco adesso è una figata che sta a cappa paura vediamo se riesce a mettere a fuoco in teoria si in teoria si in teoria si non funziona messa a fuoco c'è un certo con un cazzo in funzione oh oh devo metterà a fuoco anche se marina questa marina marina qua 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 via insomma il cazzo metto a fuoco ragazzi sta cam così 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 insomma faccio mettere a fuoco non mi ricordo non funziona mi sa fuoco di sta cam so costa un bordello sta vai a cucia ecco qua questo poi per la finanzata obscuritas già l'imagine inquietante un bambino ma questo mi ispirava perché bitter late tongue dead sopravvivere è solo l'inizio dovete sopravvivere in queste isola vedete costruirvi le cose da solo niente ciò che sembra fare la capanna combattere sembrava carino c'era 4x2 poi non potevo prendere questo guardate nel mondo di videogiochi devo cercare l'uno 4x2 ne pagavi 2 ne prendi 4 perciò una cazzata ragazzi ragazzi questi sono i miei acquisti non è vero non è vero perché c'è un altro acquisto io non so quale tutto lo so c'è un cazzo lo so ora mi sono preso mi sono preso mi piaceva io sono amante di questa marca con dietro questa figata della Boxers che figa la sono presa e poi 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 sto pensando cos'altro ah si mi sono un pirro eh 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 non subito è non subito non subito eccolo qua oh oh scusate scusate eccolo qua eccolo qua eccolo qua ho preso honor 8 eccolo qua ho preso nero perché lui non mi piaceva eccolo qui come poteva non esserci vabbè c'è lo sfondo di Zelda cattivo che cani che abbaiano ho messo Zelda non ho messo Deadpool temi personalizzabili questo è lo sfondo che c'è se lo faccio vedere con zeldino bellissimo nero bello bello veramente ho un tutto lato che avevo e basta qui sì basta non ho preso più niente fatemi vedere un po' in giro perché magari mi dimentico qualcosa ah sì infatti mi dimentico mi dimentico mi dimentico mi dimentico arrivo subito questo mi dimentico secondo me sono già visto basta solo questo mi dimentico ragazzi Dragon Quest forse magari l'ho già fatto vedere Dragon Quest magari l'ho già fatto vedere ma non mi ricordo ragazzi ho fatto una carrellata di acquisti vi ho fatto detto quello che ho preso in queste due settimane che non sono stato presente sul tubo e vi volevo chiedere ancora scusa ma io pensavo che quello lì della camma 34 erano erano offerte là della Madonna invece era un'inculata della Madonna ragazzi ci ha fottuto parecchi vorrei poi andate a leggere i feedback se sono positivi o negativi perché su Amazon non è mai successo però cordialissimi veramente spettacolari ho chiamato stamattina e ho rimborso tra 4-5 giorni e sono a posto adesso basta il computer è a posto mancava solo la cam adesso mi mancano le cuffie perché il caro mi ha mangiato il cavo e provvederemo anche a quelle adesso vediamo un attimo in settimana altri acquisti zero sto finendo resi del nivore 5 insieme a me sull'ina flow un coppia poi altre prenotazioni nuove prenotazioni ragazzi che poi farò un video a parte comunque non chiedo ancora scusa grazie della pazienza saluto a tutti le mie iscritte e le mie iscritte mi raccomando ragazzi questa è una grande famiglia sempre uniti mi raccomando ragazzi ragazze un bacione a tutti quanti un abbraccio grande grazie per aver avuto tutta questa grande pazienza un abbraccio grande grande a mio fratello De Broder Game 82 un bacio al mio fratellone Mulare che passione mi raccomando ragazzi un bacio a tutti quanti alla mia dolce metà e alla mia sigla flow flow e i miei tesorini un bacio enorme grazie ragazzi grazie di tutto veramente di cuore sono tornato mi raccomando bella a tutti ragazzi si ricomincia la grande ciao ragazzi